Perché acquistare? Noleggia! Chiedici come! Soft Technology, via Piano d'Ardine 48B, Avellino, telefono 0825 610 435. Il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri è ormai un oggetto di culto, una tiratura di 1.300.000 copie, di cui quasi 10.000 stampate in altre lingue, inglese, francese, spagnolo, fin anche arabo. L'edizione 2017 è stata illustrata anche ad Avellino dal tenente colonnello Franco Di Pietro, un calendario dedicato quest'anno ai simboli, dalla fiamma alla carabina, passando per gli alamari o i baschi. Il simbolo che mi viene subito prima alla mente è la copertina dove c'è il confronto tra l'antico e il moderno. L'antico chiaramente non può non ricordarmi dei valori affettivi fortissimi come mio padre, insomma. E il moderno è quello che cerchiamo di rappresentare noi, insomma, con l'impegno e con il lavoro. Tante novità in questo calendario di quest'anno, anche nuove tecnologie, possiamo, abbiamo visto. Sì, è ispirato a... già anche l'anno scorso aveva avuto una connotazione particolare con delle rappresentazioni anche grafiche diverse da solito. Quest'anno una novità grandissima è, come avete visto, sull'agenda per esempio, la presenza del QR che permette a tutti quanti, a tutti coloro dotati di un telefono, di uno smartphone, di arrivare direttamente sulle pagine multimediali, di siti istituzionali.